La ventunesima edizione di Contemporanea Festival inaugura la stagione del Teatro Metastasio, più volte interrotta negli ultimi 18 mesi dalla pandemia. Dieci giorni, dal 17 al 26 settembre, con 25 spettacoli e 18 compagnie, di cui 9 straniere, caratterizzati da vari linguaggi artistici, dal teatro alla danza, uniti dal comune denominatore del futuro e della forza della fragilità. Vuole avere uno sguardo rivolto al futuro, questo è uno dei temi che abbiamo sollecitato da una frase di Rick, il futuro entra in noi molto prima che accada e il punto centrale è quello della forza e del futuro e soprattutto la forza della fragilità, un concetto che esprime come dire un rapporto reale con quello che è la nostra esistenza. Gli spettacoli ruoteranno fra Metastasio, Fabricone e Magnolfi. Contemporanea è sempre l'inizio della nostra stagione, è un festival straordinario che porta a Prato alcuni degli artisti più importanti del mondo, del teatro e della danza. Durante la pandemia il teatro non si è mai fermato, sono 13.000 le giornate lavorate nel 2020, un impegno che è stato apprezzato da Regione Comune, soci e sostenitori della Fondazione. Il Metastasio è un punto di riferimento per tutta la Regione Toscana, per il panorama teatrale, non solo toscano in realtà ma internazionale e italiano. Il Festival Contemporanea segna l'inizio della stagione, speriamo sia anche l'innesco per un ritorno compiuto, completo a teatro perché ne abbiamo tutti bisogno e anche tutti voglia.